salve a tutti amici di youtube e ben tornati con un nuovo video di minecraft allora in questa video vi spiegherò come si fanno gli ascensori comunque come si passano le scuole allora è abbastanza semplice ci sono i cartelli con i piccoli spaccati a cuocci poi la pietra con cui dobbiamo costruire le scuole o questa questo è l'ascensore o sarà il di questo tipo? il classico ascensore tanto abbia cartelli e cartelli il tono ascensore potrebbe essere formato anche solo di acqua ma ciò non permetterebbe la respirazione per questo se noi facciamo ascensioni molto lunghi almeno mettendo i cartelli possiamo respirare anche se a due pezzi è un minuto è un minuto, è un minuto è abbastanza semplice è abbastanza semplice la costruzione deve essere cosa anche se tipo tipo una cloche dove c'è lo spazio per entrare si entrare anche da l'altro il nostro cartello questo è un minuto di acqua un minuto di acqua e in cima deve essere deve essere cibili ovviamente l'acqua se no non possiamo salire perchè se ci fosse il cartello ci fermeremo qui e non saliremo perché se c'è l'acqua non ci fermiamo e ora vi faccio vedere all'interno della struttura questa è un po' la cittura che non puoi vedere potrebbe così ora io ho scoperto di una perchè va di modo in fondo e c'è un cartello luce posso arrivare qui saltare e si subito 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 grazie per aver visto il video se volete commentate pure se avete qualche idea in più se volete un altro ascensore attualmente particolare in Minecraft Pocket Edition per Android e che secondo è questa qui secondo me è l'ascensore quello migliore che mi è disponibile perchè anche se le persone si possono essere ancora lo sarei stati inventati in Minecraft Pocket Edition quindi grazie per la visione se volete iscrivetevi non vedete che iscrivetevi per forza se uno si iscrive solo quando vuole grazie a tutti e arrivederci a presto